Insieme ai genitori per la vaccinazione anti-covid, stamane in tutta Italia ha preso il via la campagna di immunizzazione dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. In Molise, uno dei centri vaccinali pediatrici individuati per garantire il servizio, quello di Sernia. E dunque, nella vecchia sede dell'ospedale di via Sant'Ippolito, intorno alle 9, l'arrivo dei primi prenotati. Subito dopo l'inoculazione abbiamo raccolto le impressioni di alcuni genitori. Tutto bene, mia figlia era tranquillissima, addirittura rideva. Non ha sentito dolore e io sono contenta. Che bisogna vaccinarsi, altrimenti non se ne esce più. Per una nostra, diciamo, cura e anche per i bambini. No, per niente, non ho fatto niente di male. Benissimo, non ho avuto nessun dolore. Assolutamente, si deve fare il vaccino. La piattaforma dell'Asrem ieri in pochi minuti ha fatto registrare circa 200 prenotazioni. L'ho fatta ieri mattina tramite online e subito mi hanno dato risposta. Ho potuto scegliere persino le date, per cui oggi sono qua. E a qualcuno è andata meno bene. Il meccanismo va rodato. Per i bambini è una novità, ma pure per qui, adesso, l'organizzazione sembra tutta una novità. Perché è il primo giorno, quindi devono ancora imparare, organizzarsi e definire le routine per la vaccinazione. Però siamo speranzosi che questo vaccino possa aiutarci. Bisogna vaccinarsi, perché altrimenti andremo avanti per anni così. Io sono pro vaccino e lo dico tranquillamente. Vaccinatevi. Vaccinatevi tutti. È importante. Sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute, la seconda dose andrà effettuata a distanza di tre settimane dalla prima. Una precisazione. Nella fascia d'età 5-11 anni non è comunque previsto il rilascio del Green Pass.